Ti racconto una cosa, venite qua e ti racconto una cosa. Allora, quando ero bambino, andavo dal mio nonno e con i miei cugini facevamo il gioco del salta a letto, salta a letto, che poi è questo, questo. E poi c'era anche Gustavo, 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 Gustavo invece prelieva il cuscino della stia, e dice, oh, che fai? Allora, quando ero cuscino della stia, Gustavo, che fiscino della stia, e dice, oh, che fai? Allora, come 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 fai? Grazie. 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 Grazie.